Ho la pagina Facebook dell'associazione che è il tante della religione. Mi sei messo a fancavaleta. Qui abbiamo lo staff di Giamina Baruchieri. Allora, dici un po' di te. Di dove sei? Di cosa fai? Sono un tipo estroverso, l'embro, gli penso la dana, perché vado. Hai la pastarella. I wanna be loved by you, just you, nobody else will cheer me up. Salita il nome, il primo delle grottaglie. A Serena, con te. Davide. Jessica Palaccio. A Serena, con te. Il vicino a Bramini.